Allora, mister Mattoni, buona la prima, tanta emozione per gran parte dei giocatori. Sì, è vero, buona la prima perché affrontavamo una squadra forte, una squadra che ha dimostrato sul campo il suo valore. Dall'altra parte ha trovato una squadra combattiva, una squadra che si sta riorganizzando, ricostruendo, atteggiamento fantastico da parte di tutti i ragazzi, non hanno mollato fino alla fine, e magari con un pizzico di fortuna in più l'occasione alla fine poteva regalarci la massima soddisfazione. Ma ritengo che sia giusto un pareggio, una bella partita, all'esordio, c'è da lavorare ma sono contento. Soprattutto il fatto che la squadra non si è demoralizzata dopo aver subito il gol a quattro minuti dal termine della prima frazione di gioco, testa bassa, subito la ricerca del pareggio non è ripresa. Sono stati bravi, è vero non hanno mollato, abbiamo avuto delle difficoltà, ci siamo a volte allungati, ma questo è un percorso che siamo solamente ai primi passi e magari dobbiamo migliorare, ma quello che ho visto è un atteggiamento, voglio di riprendere la gara, voglio di rimanere attaccato alla partita e sono soddisfatto più che altro per i sforzi che hanno fatto e sono stati parzialmente ripagati. L'alta temperatura ha condizionato un po' la partita, soprattutto sul profilo degli infortuni? Sì, è stato un caldo un po' anomalo, un po' affoso rispetto agli ultimi giorni, ma i ragazzi sono allenati. Penso che la tensione ha fatto un piccolo scherzo ai ragazzi, perché dopo il secondo tempo si sono un pochettino più sciolti, ma va bene così. Allora, mister Ferazzoni, 97 minuti, ben giocati da entrambe le formazioni, che hanno cercato la vittoria e non hanno tirato mai la gamba indietro. Sì, è stata una buona partita. Poi il campo d'erba molte volte è bellissimo, ogni tanto si trova anche un campo d'erba, però quando si alleni sempre sul sintetico potrebbe metterti in difficoltà. Infatti, i primi 20 minuti siamo stati un po' in fatica, però dopo i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Potevamo essere un pochino più precisi e cattivi in alcune esibazioni, ci ha detto un po' di sfortuna sui due pali di Di Nardo e siamo stati molto molto ingenui sull'azione del rigore, quindi era l'esordio, è una partita difficile perché il Tolentino sapevamo che era una squadra frizzante. Siamo contenti a metà perché siamo consapevoli che potevamo fare la prima vittoria, però ripeto, dopo c'è stata un'occasione per il Tolentino, quindi se alla fine è uscito il pareggio bisogna accettarlo. Quindi ancora del lavoro per cercare di migliorare la finalizzazione del gioco? Sì, anche dietro dobbiamo stare più attenti, però ripeto, io credo che una squadra che cambia, a parte Altobelli e Sansone, tutti i calciatori, ha bisogno di un pochino di tempo, però l'esperienza che hanno i nostri calciatori oggi non è questione di tempo di lavoro e oggi potevamo amministrare meglio quando siamo andati in vantaggio, dovevamo farlo con più capacità della quale hanno le proprietà i nostri calciatori e non l'abbiamo fatto. Però ripeto, la prestazione è buona, siamo stati sfortunati, sicuramente dobbiamo migliorare nelle due fasi, ma questo lo sappiamo e i rammari che è quello che dobbiamo accelerare tantissimo, perché questi sono due punti, secondo me, che abbiamo buttato portando sempre il massimo rispetto al Tolentino perché anche il Tolentino ha creato le situazioni da golle, però credo che se avessimo vinto non c'era niente da recriminare. Accettiamo il punto e da martedì ci rimettiamo sotto a lavorare cercando di ripartire subito perché il campionato è partito e bisogna cercare di fare punti.